Il ventegno perché parla appunto dei miei 20 anni di carriera, quest'anno faccio 20 anni di carriera, io il mio primo spettacolo da un'ora l'ho fatto nel 2004, nel 2003 ho iniziato e quindi banalmente racconto questi 20 anni di carriera e come pretesto i 20 anni di carriera mi permettono poi di parlare di questi 20 anni che hanno un po' cambiato completamente il corso della storia rispetto ad alcune dinamiche anche legate alla comicità, cioè la comicità che si faceva 20 anni fa e le dinamiche che c'erano dietro alla comicità ovviamente sono diverse da quelle che ci sono oggi che banalmente c'è stata una cosa che si chiama internet, banalmente è successo qualcosa che si chiamano social e quindi mi diverto a raccontare in questo spettacolo gli insuccessi, celebro gli insuccessi in questo spettacolo e racconto questi 20 anni come è cambiato tutto, come è cambiato il linguaggio, come è cambiata la sensibilità, come è cambiato l'approccio alla comicità, come è cambiato l'approccio anche all'educazione dei figli perché ho due figli dei quali parlo sempre negli spettacoli e ovviamente anche in questo spettacolo ne parlerò prima o poi dovrò riconoscere gli diritti d'autore ai miei figli quando cresceranno per la prima volta in un mio spettacolo racconto di quanto io sia andato vicino a diventare prete hai detto il sostantivo che è fondamentale quando si affronta questo argomento che è il contesto se io sono in un gruppo di amici e ci si conosce, le dinamiche tra noi sono abbastanza chiare ovviamente io vi posso permettere delle cose che in altri contesti non mi posso permettere se io sono su un palco e sto facendo uno spettacolo mi posso permettere delle libertà che nella vita di tutti i giorni non mi potrei permettere perché non è un palco quindi io non penso che non si possa più dire niente oggi penso che si faccia fatica a riconoscere i contesti in cui si possono dire delle cose e si fa ancora più fatica ad accollarsi le responsabilità di ciò che si è detto cioè tu vuoi dire una cosa? bene, non puoi pretendere che ciò che dici non provochi mai nessuna reazione dopodiché ci sono le reazioni scomposte e uno in maniera intelligente dice vabbè questa è una reazione scomposta sti cazzi ma poi ci sono delle reazioni che invece devi ascoltare perché comunque hai toccato delle sensibilità dopodiché te ne puoi fregare ma può essere anche un modo per andare oltre cioè io lo trovo molto stimolante questo periodo perché giocare con le sensibilità delle persone ti invita a fare un passo ulteriore rispetto a quello che facevi prima perché non è vero che non si può più dire niente si deve fare un po' più attenzione a quello che si dice e secondo me è uno stimolo non si può buttare tutto in cacciara se no diventiamo Pia e Amedeo guarda io di volta in volta quando approccio la scrittura di uno spettacolo cerco di interrogarmi su quello che voglio dire sull'esigenza comunicativa che ho quindi tendenzialmente scrivo uno spettacolo se e solo se ho voglia di dire qualcosa e ho necessità di dire qualcosa quindi diciamo che ogni spettacolo parte da un'esigenza comunicativa diversa ovviamente occhiaie il penultimo spettacolo era frutto di rabbia frustrazione che abbiamo vissuto in pandemia e mi sono divertito a esternare tutta quell'emotività il motore di questo spettacolo invece come ti dicevo prima è la celebrazione degli insuccessi cioè mi fa troppo ridere andare in scena e dire io ho sbagliato questo, 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 questo e questo e continuerò a sbagliare se sapessimo delle debolezze e dei problemi degli altri secondo me si dovrebbe meglio io ho sempre, ho un'idea, devo scrivere un monologo prima o poi quando vado alla posta e vedo le signore che stanno lente e lì ho due signore qua sotto casa alla posta e sono lentissime e ogni volta mi verrebbe voglia veramente di sbroccarle e dirle ma santo cielo ma lo vedete che ok se tu sapessi che quella persona non lo so ha un problema grave di salute o il figlio è a casa malato o tra un mese l'esca del contratto e sarà licenziata e non sa dove sbattere se sapessimo chi ci abbiamo dall'altra parte secondo me dovremmo fare tipo i social nella vita reale cioè dovremmo avere degli schermini qua in fronte per dire lo stato d'animo quindi se io so che una è depressa magari non le sbrocco perché c'è scritto depressa quindi magari cerco di capire perché e poi le sbrocco uguale magari perché mi devo fare un servizio però secondo me insomma se riuscissimo a comunicare dagli altri i nostri stati d'animo secondo me si vivrebbe un po' meglio grazie a tutti Grazie a tutti.